Io sono in Ospi relativamente da poco tempo, sono arrivata nell'ottobre dell'anno scorso e arrivo da un'esperienza direi trentennale di attività di coordinamento dell'area dell'emergenza dell'ospedale. Quindi un ambiente completamente diverso, con obiettivi di cura completamente diversi, con tipologie di pazienti completamente diversi. Devo dire che quando mi è stato proposto il coordinamento dell'ospis ho avuto parecchie perplessità e parecchio timore, perché sicuramente andavo ad affrontare un ambiente per me completamente sconosciuto, ma credo sconosciuto per tante persone al di fuori di questa realtà. Si ha purtroppo, e si sente chiaramente, parlare di ospis come posto dove si va a morire. Eh, non è così. Questa era anche la mia idea, basata su pregiudizio, una sorta di preconcetto e sicuramente di ignoranza. Mi è bastato poco capire che all'interno dell'ospis c'è vita. C'è vita. L'obiettivo grande e importantissimo dell'ospis è quello di fare sì che la parte di vita che il paziente trascorre all'interno dell'ospis guadagni in qualità. L'obiettivo vero è quello di valorizzare al meglio tutte le risorse e le possibilità che il paziente ha per far sì che quel pezzo di vita che è assolutamente unico nel suo genere, come unica è la nascita, peraltro, venga vissuto al meglio, favorendo al meglio tutte quelle che sono le possibilità e le capacità di questa persona e della sua famiglia.